ciao a tutti e bentornati a un nuovo video di fitness allora come avevo detto nell'ultimo video che vi avrei praticamente proposto appunto un video sullo stallo siamo qui per questo argomento per questo delicatissimo argomento allora ci alleniamo non so sono tre mesi che ci stiamo venendo quattro mesi un anno i miglioramenti si fermano gli obiettivi si fermano come fare praticamente non riusciamo più in base come dico sempre all'obiettivo proposto preposto in preposto ad andare avanti quindi se vogliamo dimagrire ci fermiamo non riusciamo più a dimagrire se ci stiamo allenando se ci stiamo allenando i nostri progressi in palestra per aumentare la malattia della massa muscolare eccetera eccetera non ci sono più insomma c'è questo questo stallo ci fermiamo nel miglioramento non andiamo più avanti i motivi possono essere molteplici possono essere diversi allora innanzitutto come cercare cerchiamo la causa cerchiamo di capire la causa potrebbe essere una delle delle cause classiche potrebbe essere quella del della scheda perché non viene cambiata quindi sempre gli stessi esercizi fare sempre gli stessi esercizi non cambiarli qui la soluzione qual è la soluzione è quella di la soluzione quella di cercare variare quindi cambiare la classica il classico principio della confusione muscolare quindi quando andiamo in palestra cominciamo a cambiare gli esercizi non è detto ma anche a casa non fossilizziamoci sempre sullo stesso video cambiamoci andiamo a vedere un altro in palestra nel caso della palestra se dobbiamo fare un esempio di pettorale dobbiamo allenare i pettorali non è detto che dobbiamo iniziare sempre con la panca piana possiamo iniziare con la panca inclinata quindi variare questo ogni volta bisognerebbe farlo ogni volta il principiante ovviamente si terrà una schedina base per un certo periodo di tempo farà quella un mese e due ma poi cominciamo a fare questo gioco quindi a variare panca piana no cominciamo con la panca inclinata poi possiamo fare delle croci cavi e possiamo fare un pullover la prossima volta facciamo non so possiamo iniziare con le spinte su panca le spinte su panca piana poi non lo so possiamo fare la pettorale machine e concludiamo con un terzo esercizio che potrebbero essere le croci le croci con le manovre le croci cavi sono ce n'è un'infinità quindi variare il discorso di variare ogni volta che ci approcciamo a un nuovo allenamento a una nuova seduta d'allenamento in palestra o a casa un altro motivo che ci potrebbe stallare potrebbe essere proprio il fattore alimentare l'alimentazione quindi il discorso alimentare quindi parliamo date un occhio su quello che state cioè fate attenzione a quello che state mangiando potrebbe essere è un periodo che state mangiando sempre le stesse cose cose o state facendo sapete che parlo semplicemente state facendo girare sempre gli stessi alimenti vanno variati ok vanno variati questo è importantissimo per quanto riguarda poi il discorso mente questo è ancora discorso da affrontare comunque il discorso psicologico non è da sottovalutare si possono anche non ottenere dei miglioramenti perché molto probabilmente è un periodo dove abbiamo delle problematiche noi abbiamo dei problemi dove abbiamo nausea tra virgolette tra virgolette abbiamo nausea ad affrontare dire realmente ad andare in palestra però in questo caso suggerisco di fermarci perché andare in palestra comunque allenarci a casa uguale alla stessa cosa e non stare bene noi a livello psicologico a livello mentale il discorso mente molto molto importante non ci porterà a miglioramenti proprio perché non abbiamo voglia di allenarci e quindi cerchiamo cosa che cosa fare allora magari non lo so fermiamoci svolgiamoci andiamoci a fare una una gita in qualche parte oppure cambiamo proviamo magari a prendere non so fare un allenamento nuovo ad approcciarsi magari ad una camminatina una cosa leggera lasciamo la palestra lasciamo lasciamo le allenamenti a casa e affrontiamo buttiamoci su qualche su qualche altra cosa il discorso qual è il discorso è quello di svagare di evadere con la mente per un determinato periodo di tempo è chiaro che se i problemi sono gravi ma non lasciate a casa dal lavoro o altri problemi sono che nella vita purtroppo accadono anche bene secondo me che accadono altrimenti non cresceremo a livello mentale questa è nata parentesi che apro avere tutto poi si rischia di finire anche strada cattiva questo è un altro discorso cerchiamo di sbagarci scegliamo se valutiamo se il caso di fermarci è comunque non fare niente no ma di scegliere un qualcosa e o se no altrimenti cerchiamo di di fare qualcosa di stimolante cercare qualcosa di stimolante che ci stimoli sempre a livello mentale ok queste sono i tre fattori che solitamente ci portano allo stare poi ce ne sono diversi che potremmo affrontare in un altro video o comunque se fate le domande qui sotto cercherò di rispondere se ne può uscire dallo stallo da questo stop da questo fermo se ne può uscire le motivazioni come ripeto sono tanti può essere un discorso di come torno a ripetere cerco sempre di concludere riassumendo può essere un discorso di stasi a livello di allenamento quindi allenamenti non variati pesi carichi non variati e qui subentra anche il discorso del personale o comunque dell'assistente di sala o comunque di quello che c'è su internet state attenti all'occhio a quello che andate a vedere ok la produttività di ogni video c'è un video deve contenere davvero un contenuto questo non so chi che condiene allora cerco sempre di metterci un po di buon umore poi sarò un po di buon umore c'è il discorso il fattore alimentare c'è il discorso psicologico questi solitamente sono tre fattori che ci bloccano in qualche modo se ci sono domande scrivetevi qua sotto come sempre cercherò di rispondervi vi ripeto non sempre riesco a rispondervi immediatamente e velocemente ci vediamo al prossimo video un bacione ciao